buona sera a tutti ben ritrovati da fabio sinatti che vi commenta diciamono mai il completamento della befana campestre quella riservata alla settore giovanile e dopo ci raggiungerà anche davide faltoni per quanto riguarda il primo trofeo città di arezzo di cross ecco qui vediamo intanto le prime avvisaglie per quanto riguarda il settore giovanile ricordiamo una giornata particolarmente fredda quella del 6 gennaio che però non ha allontanato questi prodigiosi bambini che si sono presentati qui in questa in questa competizione intanto vediamo clara severi una delle più piccole due anni addirittura che ha fatto la circa 200 metri intorno lì alla all'ambiente della polisportiva in questa categoria ha vinto guerrini cesare dell'alga di arezzo davanti a occhi bovi diego della trerica marciato di mugello terzo posto di vasile riccardo dell'alga etrusca in campo femminile invece corti noemi ha vinto davanti a beccatini asia e tiglie ginevra ecco qui intanto vediamo invece la categoria b degli esordienti con la vittoria di sant'angelo alessandro un'atleta della polisportiva politica castelfranchese di pisa mattia ceni al secondo posto marciato di mugello terzo posto per alessandro tarquini delle casestini in campo femminile invece la vittoria andata sarà giorni dell'avi sansepolcro avanti a caterina calligiana del xain di perugia e al terzo posto dora garzella della galla di pontedera e qui intanto vediamo ancora altri personaggi che si sono chiaramente avvicendati all'interno proprio dell'ambiente della polisportiva dove dovevano effettuare a seconda delle varie categorie le fasce d'età un giro due giri o tre giri ecco qui vediamo proprio questi ragazzini tanti bambini presenti ecco qui intanto vediamo questo famoso sant'angelo figlio d'arte di proprio di di ponte di si della polisportiva castelfranchese comunque sono atleti che vengono dalla dal pisano insomma quelle zone lì e qui vediamo proprio avvicendarsi nella zona del traguardo addirittura qualcuno vestito in maniera molto più diciamo compatta rispetto alle normali corse in cui vediamo i ragazzini anche con la magliettina eccetera purtroppo la giornata come ripetiamo era particolarmente fredda ecco qui vediamo ancora gli avvisarli e negli ultimi concorrenti che giungono al traguardo terminata la categoria degli sorgenti b è stata la volta invece degli sorgenti a e anche qui grande battaglia per quanto riguarda questi partecipanti intanto vediamo ancora gli diciamo gli atleti che hanno voluto così comunque sia completare la gara anche perché poi la befana era stata con loro e qui vediamo gli sorgenti questi molto più agguerriti della della categoria dove ha vinto tommaso tromagnoli del marciatore di mugello davanti a sebastiana chimu della sega futura terzo posto per molnini libero dell'avis di sansepolcro al secondo nel capo femminile invece veroni cabrizzi dell'avis sansepolcro ha vinto davanti a lucrezia nieri della teleca prato e giubilei giorgia del wispa badia san salvatore ecco che vediamo già atleti che cominciano ad assaporare la voglia di correre da un punto di vista proprio atletico qui ovviamente percorso era un pochino più lungo era alcuni non ce la facevano quindi sono fermati altri invece hanno proseguito regolarmente un percorso molto vario che l'ambiente della polisportiva ha messo a disposizione vediamo per l'arrivo di tommaso romagnoli del marciatore di mugello che ogni anno questa competizione vengono sempre molto volentieri ecco in quanto femminile invece abbiamo visto veronica brizzi dell'avis di sansepolcro terminate le gare promozionali che diciamo intercalavano sono erano partite dopo la gara degli adulti amatori c'erano queste gare diciamo promozionali poi le gare invece del settore giovanile ragazzi e ragazze cadetti e cadette che poi diciamo davano la possibilità di fare gli ultimi gare quelle delle grand prix di crosse che abbiamo fatto vedere la settimana scorsa ecco che diciamo la categoria ragazzi e ragazze qui battaglie già importanti per quanto riguarda queste categorie dove in campo femminile ha vinto zoe orsolini dell'atletica grosseto banca tema al secondo posto e sofia fiorini della tre di casentino poppi poi la rivedremo anche in occasione del trofeo città di arezzo terzo posto matilde aggravi della wispe abbadia san salvatore poi a seguire mugnai emilia della terrica futura quinto posto per carolina corsetti sem della tre di casentino poppi in campo maschile invece qui vedete già degli ottimi atleti vediamo samel e samel e samuel la dedica futura che diciamo è cresciuto già da alcuni anni l'abbiamo visto sempre protagonista ma ora veramente comincia avere anche un fisico adeguato per la per la corsa il secondo posto e samuel e zanti che proprio nel finale in volata anche se poi c'era i amu ad esciola che della telega futura proprio diciamo hanno lottato all'ultimo fino all'ultimo metro poi gianmarco rossi della terrica volterra e al quinto posto mattia franco buscemi della terrica futura ecco che poi si susseguono un po tutti gli arrivi di questa di questa gara una gara che era intorno ai mille metri e poi è stata la volta invece della categoria dei cadetti che era l'ultima gara del settore giovanile presente anche qui grande battaglia soprattutto diciamo per quanto riguarda la gara degli adulti degli degli uomini diciamo con augusto casella della gala di ponte d'era che ha avuto la meglio proprio nel finale di anni che nana dello xain di perugia al terzo posto e giovanni provvedi della sicilio rossi firenze quarto posto gabriele gambone della telega calenzano e al quinto posto marco arrighi della gala di ponte d'era ecco invece in campo femminile bianca verruzio della uispia badia san salvatore ha battuto greta settino della telega calenzano terzo posto per francesca centi dell'oxain di perugia quarto posto per azzurra mauti della gala di ponte d'era e al quinto posto claudia fiori della libertas runners livorno ecco che intanto abbiamo utilizzato per questa categoria un pochino più grandi celli percorso un pochino più lungo e quindi qui le difficoltà diciamo aumentavano perché c'era proprio la salita questo strappettino qui è molto leggero ma poi ritrovavano un altro vicino alla casottino che era ormai diventato un po la parte più spettacolare diciamo così del del percorso e qui vediamo l'arrivo dei concorrenti già strutturati in maniera funzionale per poter affrontare il prossimo anno la categoria anche degli allievi importante quindi vedremo un po quello che succederà ecco queste sono le primissime avvisaglie già nei prossimi settimane anche loro avranno la loro competizione ufficiale per i campionati di società domenica scorsa ad arezzo proprio sono stati questi campionati società di corsa campeste settore giovanile che poi danno la possibilità alle varie società di poter accedere e partecipare ai campionati regionali di società qui vediamo ancora ecco su seguirsi nella zona del traguardo i vari i vari concorrenti e vedete proprio ritmi molto diversificati e il percorso che ha fatto proprio selezione nei confronti degli atleti stessi ancora altre immagini che dimostrano un po anche la diciamo lo spettacolo che ha portato anche la corsa campestre in questa zona diciamo della polisportiva di policiano con tanti genitori accompagnatori che hanno voluto assistere a questa gara come dicevamo nonostante le condizioni meteo molto molto diciamo rigide da un punto di vista proprio della temperatura ma tutto sommato diciamo positive ecco quindi non pioveva percorso il terreno era adatto per le caratteristiche dei ragazzi stessi ancora vedete volate anche nelle retrovie questo per far capire che fino in fondo i ragazzi ce la mettono tutta quindi non demordono neanche alla alla fine gli ultimi metri diciamo anche se sono stanchi cercano sempre di esprimere al meglio con la volata e qui siamo anche alle premiazioni che abbiamo poi effettato per tutti i partecipanti in uno stand gremitissimo di ragazzi e familiari che ovviamente sono stati premiati tutti con una bellissima medaglia e poi anche con dei dolci che sono stati offerti dalla befana in questa in questa circostanza vediamo che stanno ecco qui in palco chiamati tutti uno per uno questi ragazzi e qualcuno ecco con medaglie con coppie con prodotti diciamo tipici del periodo hanno sicuramente apprezzato molto volentieri insomma ecco quindi ormai è diventato un appuntamento fisso della befana campeste sono 33 le edizioni già effettuate e pertanto diventano delle gare più diciamo forse più antiche anche di questo tipo per quanto riguarda la nostra provincia ci ha raggiunto anche davide faltoni l'organizzatore del primo trofeo cittaderezzo buonasera buonasera navide grazie dell'invito buonasera a tutti ecco diciamo che è stata una novità una novità un po per tutti nessuno forse pensava di poter utilizzare questo questa location per una manifestazione diciamo sportiva di tipo cross e invece ti sei riuscito a trovare questo questo angolino diciamo della città è importante poi apprezzato anche dall'amministrazione comunale sì allora io evidentemente lo conosco bene ci sono nato lì è un posto che secondo me insomma era lì era ideale perché sia perché il fondo è tanto tempo sono dei campi effettivamente ma è tanto tempo quindi che vengono utilizzati come parco e poi perché effettivamente il posto credo sia suggestivo davanti alle mura del cinquecento a 50 metri da san domenico a 100 metri dalla cattedrale quindi insomma non è farlo strategica come zona direi molto strategica non è facile vedere un cross cioè in una città no ma poi con la sfondo con lo sfondo di questi mura chi sono veramente qualcosa di spettacolare intanto stiamo vedendo la categoria dei ragazzi e ragazze in cui samuel e zante è stato un po il protagonista principale in campo maschile mentre in campo femminile sofia fiorini del rega santino poppi è stata lei la protagonista di questa gara comunque direi che è stata apprezzata anche da parte dei gli atleti stessi sì perché ripeto a parte abbiamo avuto una fortuna incredibile che il tempo ci ha assistito è fondamentale perché è una era una settimana di disgrazie quindi basta pensare quello che è successo nelle marche ora scusami un attimo perché arriva zanti poi abbiamo fatto poi un flash una domanda al volo quindi proprio neanche senza tregua il circuito bene e dice tranquille sofia dura comunque soddisfatta abbastanza diciamo veloce la risposta della sofia per quanto riguarda la concorrente femminile ecco prosegui davide anche sulla tua non dicevo chiaramente le condizioni meteo sono fondamentali in tutte le manifestazioni ha dato una grande un grande aiuto per tornare al posto direi che arezzo ora per quanto riguarda l'atletica a uno stadio che è sicuramente uno dei più belli di italia e sicuramente del centro italia della nostra regione ora abbiamo anche questo spazio quindi credo che poterci fare le gare campestri quindi insomma ma potrebbe essere anche strutturato anche per un discorso scolastico visto che lì ci sono anche alcune scuole eccetera quindi potrebbe essere che l'anno prossimo perché no non non sfruttarlo quindi che l'occasione è stata ottima anche per dare degli spunti poi non dimentichiamoci il comune proprio le scale mobile ha una struttura che d'estate il ristorante messicano che è del comune quindi dove ci sono tanti spazi quindi se l'amministrazione vorrà sicuramente è possibile c'è un grosso seguito è bene sfruttare direi queste occasioni qui sono bene a sfruttare intanto diamo un po il risultato quindi zanti che ha vinto davanti ad aramini alessandro e falaschi leonardo in campo maschile in campo femminile invece fiorini sofia davanti a priscila ferri e gloria labbadia ecco qui sono partiti invece la gara della categoria cadetti e cadetti che chiaramente avevamo un personaggio importante come alessio poggesi un atleta della nascita montevarchi che lo scorso anno dopo la finale nazionale studentesca di corsa campestre è stato selezionato fra i migliori mezzofondisti giovanili anche della toscana insomma quindi diciamo atleti in erba che stanno crescendo quindi queste sono le occasioni per farli speriamo che speriamo che facciano anche da richiamo per altri perché ripeto l'atletica dà le opportunità anche di vivere proprio la natura come in questi casi con questo tipo di gare qui comunque si vive sempre all'aria aperta quindi non è in un momento come questo in cui i giovani perdono la mobilità a causa della vita che fanno e soprattutto dell'uso dei tutti questi strumenti tecnologici che l'assurdo che siamo arrivati presto anche da noi succederà che a scuola fanno come materia una delle materie più importanti è la riabilitazione motoria quindi siamo arrivati e quindi insomma sarebbe una cosa un pochino incresciosa insomma ci auguriamo che questo non avvenga intanto qui andiamo proprio a dire un po' quali sono stati i protagonisti di questa competizione in campo maschile abbiamo detto alessio poggesi della rinascita montevarchi che ha vinto davanti leonardo chiarini della vistan sepolcro terzo posto per donini iai jai della rinascita montevarchi poi seguire mo carli facara burkini e del francia in campo femminile invece la vittoria è andata l'atleta sempre della rinascita montevarchi benedetta maria fiore che lì è una famiglia proprio di atleti il babbo che sta spingendo forte nei confronti della figlia fra l'altro un fisico molto molto lungilinio quindi beh vedremo un po' se riuscirà a proseguire perché poi quando si arriva a una certa età c'è una specie di blocco non mentale ma anche proprio fisico in tutti i sensi ecco vediamo proprio la maria fiore che è proprio questa atleta abbastanza longeva siamo troppo questi ragazzi questa categoria qui è un po il discrimine perché più smettono abbiamo visto che gli abbandoni e purtroppo è la parte diciamo dolente dell'atletica ma non soltanto dell'atletica dello sport in generale perché quando vedi si arrivano a 16 17 anni i ragazzi o sono forti quindi hanno superato quel momento di criticità oppure abbandonano è la so però secondo me è la parte più importante dove veramente si può raggiungere anche il risultato tecnico più più evoluto insomma forse bisogna anche fargli capire che non tutti sono dei campioni si può accontentare anche di essere coprimari insomma è coprimari e quindi se no ma poi dire mai guarda io ho avuto un'esperienza c'era un atleta che non faccio il nome che effettivamente come doti non ne aveva tante però aveva l'assidità di di impegnarsi di fare le cose è riuscito alla fine ad essere anche un protagonista a livello anche nazionale quindi dico mai dire mai perché effettivamente con la buona volontà si può superare anche certi certi ostacoli che il fisico a volte non ti può dare ma se c'è la volontà guarda me ne ha per dire non era un grande diciamo tecnico specialista diciamo però è riuscito con la sua forza ad essere anche primatista del mondo del giugno di meri percorso era bello anche se un po ondeggiante resta una bella gara e qui abbiamo sentito anche una cosettina un po veloce ma era un po stanco anche poggesi gli altri che arrivano a seguire dicevo forse io vedendola un pochino la prima volta non avevo visto come era questa zona qui anzi fra l'altro non ce l'avevo neanche presente forse collocata più centralmente potrebbe essere più funzionale anche per poterla vedere di più dal pubblico che se no qui si vedeva solo la partenza e arrivo capisco che la prima volta è sempre un po nendica perché non sappiamo mai come potrà svilupparsi la competizione però ecco proprio da questo ci può servire come suggerimento per poter fare una cosa anche diversa nelle future sì l'arrivo la partenza nell'area centrale poi non ci dimentichiamo c'è tutto quel parcheggio che non è non è una cosa da poco e no poi domenica abbiamo chiuso questo pezzo di strada e non è un problema perché infatti non ci sono problemi però la utilizzando il parcheggio non c'è bisogno nemmeno di chiudere la strada quindi questo già ecco la cosa che direi poi che è fondamentale per tutti questo spazio con questa pista sono lì sono a disposizione di tutti perché chi vuole andare allenarsi già a correre te dicevi le scuole ma già le scuole se ci vogliono portare i ragazzi a correre e ci possono andare perché diciamo anche fuori da qualsiasi problema insomma dal punto di vista anche del traffico eccetera quindi che puoi fare un chilometro e mezzo perché poi siete riusciti a realizzare un chilometro e mezzo ma si può fare tranquillamente si arriva a due chilometri creando dei cambi percorso più tortuoso però ci si arriva senza particolari difficoltà e però è una scenografia di stupenda io ho visto anche le foto che sono state messe anche nei media sono state molto spettacolari sono qualcosa di spettacolare e qui intanto abbiamo visto il settore giovanile dei sordienti proprio i primi passi in cui ha vinto cesare guerrini dell'estrusca atletica al primo posto gennaio vittorio sempre dell'estrusca al secondo barbaglio orlando della nascita montevarchi al quarto al quinto al terzo posto al quarto della lunga pietro dell'estrusca atletica il quinto gaudino niccolò della nascita montevarchi in campo femminile invece la vittoria è andata a beccatini asia dell'atletica futura davanti a tiglie ginevra e poi capomazzo della getrusca al terzo posto mattione al quarto ed antonio al quinto posto che chiaramente bisognava andare a riprenderli ma io penso che lo spettacolo di questi bambini che correvano nell'erba non ha prezzo penso si poi tranquilli che qui non c'era neanche il problema di dire ma posso cascare se caschi caschi diciamo nell'erba quindi non c'è neanche grande problematica insomma ecco e poi ecco il bello che cominciano anche questi bambini a correre senza l'ausilio dei genitori oppure la difficoltà di dire eccetera quindi un'altra bella partenza degli esorgenti b diciamo che forse il freddo un pochino le ha allontanati perché potevano essere molti di più anche questi concorrenti ma i giorni precedenti è stato qualcosa di impossibile anzi addirittura proprio nel finale avete modificato anche gli orari c'era presa paura sembrava che veramente ma effettivamente fino al giorno a due al giorno prima si viaggiava sotto lo zero abbondante quindi insomma quindi anche i propri genitori portare ragazzini di 6-7 anni così allo sbaraglio anche se li tempra da un punto di vista proprio fisico però capisco anche che non tutti dicono ma portali molto insomma c'è stato dei giorni scorsi il meno 5 meno 6 come fai a una cosa impressionante sì e qui in questa categoria ha vinto Dario Papini dell'Alga Etrusca davanti Alessandro Tarquini da Trele Casestini terzo posto per Duccio Sandroni dell'Alga Etrusca ancora dell'Alga per Abadò Stefano e Sarchini Pietro poi Rossi Cristiana Tortorelli Francesco via via tutti gli altri in campo maschile mentre in campo femminile la vittoria qui è andata Fabriciani Gemma sempre dell'Alga Etrusca davanti alla compagna di squadra Rachele Marcelli e poi invece Emma Pinani della Gazzusca sempre al terzo posto a seguire Carla Ada Badalamenti Anna Aramini Gioia e Barbagli Rachele poi a seguire anche altri concorrenti ecco direi il bello anche di questa di queste competizioni di cross in particolare almeno io li ritengo è quello di rivederli poi transitare sempre dallo stesso posto almeno più di una volta questo forse dà anche maggiore spettacolarità no no ma poi anche per chi fa la gara anche per gli altri stessi vediamo poi gli arrivi abbastanza come vedete cominciano ad andare un po' un po' un po' là questi ragazzini l'arrivo poi in discesa quindi li aiutava molto era subito quella salitella abbastanza diciamo impegnativa che poi veniva ripetuta dagli adulti qui siamo agli esorgenti A che è l'ultima categoria diciamo del settore promozionale e anche qui partenze velocissime devono fare due giri da 400 metri l'uno quindi abbastanza anche impegnativo perché poi come ripetiamo questa salitella qui si sente sembra che vadano e poi non ci dimentichiamo il fondo è faticoso cioè se corre nella terra è molto più è molto più faticoso che non sull'asfalto certo certo e però diciamo che forse dà ancora maggiore potenzialità ragazzi come allenamento sì per la potenza non a caso una volta si diceva i crossi servono per preparare poi la stagione primaverile estiva è sempre penso che sia sempre valida questa formula intanto abbiamo visto la la bal di vanessa che addirittura a un certo punto era passata al comando quindi anche nei confronti dei dei maschietti poi dopo si sono rifatti i maschietti nella parte conclusiva hanno di nuovo risuperato la bal di vanessa che è la politica al campino mentre luca papini dell'alga trusca ha detto dice ma io già che qualche maniera un pochino di di orgoglio è venuto fuori però ecco lotte serratissime questo è il bello diciamo di queste di queste categorie che poi arrivano in fondo tutti hanno dato il massimo di loro stessi non è che si risparmiano quando hanno la birra la spendono tutta ecco qui questa è un'altra zona molto carina a me piace tantissimo questi percorsi così ondulati al tempo stesso però ecco riparati anche da queste mura così fantastiche sono effettivamente questo aspetto qui da un'impressione anche di correre liberamente piacevolmente ecco senza si corre nella storia ti pensa quanta gente cioè lì sono sei secoli che sono lì quelle mura no 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 ma effettivamente è stata una cosa molto positiva qui intanto vediamo quindi l'arrivo a livello maschile luca papini poi lia luzzi andrea gennari giovanni beccattini matteo zotti dario mandolini leon bachini in campo femminile invece la vanessa baldia davanti a giovanna gennai poi de silvia del silvia giacinti sarchini dalla verde sofia e castignano eva diciamo che questo che era il prelugio poi per le due gare diciamo un pochino più corpose per le per quanto riguarda il settore femminile assoluto che addirittura abbiamo avuto anche la presenza di un atleta proveniente diciamo dalla dalla versiglia diciamo così oppure dalla diciamo un pochino più lontani da rezzo in questo caso l'artuso che fra l'altro ricordiamo un atleta anche di spicco a livello anche nazionale nelle negli anni ora anche lei diciamo a qualche annetto qualche annetto però tempo passa tutto sommato e del 1978 viene ancora direi molto giovane si 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 paragonata alle nostre alle nostre però ecco effettivamente è un atleta molto molto valida partecipato mi sembra che era è stata anche dell'esercito è stata quindi un atleta insomma di spicco a livello nazionale e però direi che si è comportata molto bene anche l'atleta di casa la Emanuela Martinelli che fra l'altro pur essendo una maratoneta non ha disdegnato questo percorso un pochino così particolare ovviamente qui c'erano un pochino di tutti c'erano quelle un pochino più forti quindi si vede la differenza certo ma insomma è bello anche di insomma io credo vada fatto un plauso a chi si mette in gioco pur sapendo che non può competere con le prime quindi rischia anche di essere doppiata ma insomma ho doppiato ma io credo che e qui vediamo abbiamo visto anche la carpino che ha lottato diciamo almeno per un certo periodo diciamo del percorso insieme alla Martinelli e la guarda che scorcio anche è una cosa fantastica veramente anche per le riprese danno una sensazione piacevole di correre in un ambiente tranquillo vediamo la Nicoletta sempre molto sorridente qui al primo passaggio vedete il passo abbastanza dinamico della della Cristina Artuso però anche dietro non disdegnavano sia la carpino che la maniera Martinelli mentre un po dietro di preparazione direi la Francesca Barneschi però comunque sia anche lei si sta dando da fare per cercare anzi più che altro ha cercato un pochino di recuperare forse ancora come dicevo un po indietro di preparazione quindi non altrimenti poteva essere ecco poi qui vediamo la Moretti un'altra un'atleta della nostra società e poi la Canuto un'atleta a retina che gareggia con i colori del castello poi intramontabile lucia tiberi altra persona altro personaggio due allievi qui invece abbiamo la mazzierli e la e l'altra cosa sempre della e la Tarquini Lucrezia ecco questi due atleti allievi che sicuramente daranno vitalità anche a alla società retina e proprio domenica prossima ci sarà ad ambra il campionale società qui intanto vediamo che Martinelli Emanuele sembra quasi che perda un pochino perché poi questo percorso qui come dicevamo percorso tosto eh sì no ma ha detto qualcuno che dice sembrava piangiante poi dopo quando lo provi direttamente ti rendi conto che poi all'ultimo giro poi non deve essere esatto che vede proprio frazionate tutte le concorrenti però effettivamente stanno dando il meglio di se stesse insomma ecco in questa questa frangente e come dicevamo prima i cross servono perché poi sono variazioni di ritro che vediamo guarda che vento che c'era quindi anche questo sicuramente influisce diciamo anche sull'andamento della corsa e qui abbiamo visto Tarquini poi vediamo mazzierli la Sassi Antonella insomma anche questa che oltre cinquantenne che ancora dà le mani a molte a molte giovani insomma ecco che vediamo la Nicoletta Sanarelli che seguiva anche lei è migliorata tanto ma poi lei non demorde mai eh sì dalle gare brevi a quelle lunghe le fa tutte qui vediamo un altro passaggio proprio nella zona del traguardo e poi questo andare e andare ma soprattutto questi avvallamenti continui danno diciamo la possibilità a molti concorrenti di poter proprio allenarsi particolarmente qui vediamo l'arrivo dell'Artuso che sicuramente ha fatto una bella gara e qui proprio nell'ultimo giro l'Emmanuela Martinelli ha allungato decisamente nei ponti della Carpino è arrivata con un vantaggio di una decina 15 metri quindi bella prestazione direi ha fatto una bellissima gara non pensavo che potesse andare così devo essere anche io sincero rispetto alle previsioni della della vigilia qui vediamo anche la Francesca Barneschi via via insomma ecco si completa una gara un po' tutte le concorrenti quindi amoretti Silvia la nostra atleta che gareggia con noi da quest'anno viene da Perugia viene anche lei è stata ferma un paio di anni e adesso sta ricominciando poi vediamo Tiberi Lucia lentosissima anche lei non più giovanissima però ancora sempre un bel gesto e poi Gennaio e Canuto poi vediamo qui la l'Atleta Tarquini e poi la Mazzierli dovevano vediamola Sanarelli Nicoletta giungere al traguardo e comunque abbiamo visto anche un bel numero di aspettatori e qui siamo alla partenza della gara degli adulti anche questa è stata una bellissima gara direi è una partenza molto sostenuta perché poi dobbiamo fare un giro piccolo e poi quattro giri grandi quindi insomma era abbastanza impegnare saranno cinque chilometri qualche cosa però ecco già subito partenza velocissima da parte di Tartaglini forse che poi dopo accuserà questa partenza veloce senz'altro tallonato dai propri compagni di squadra volevano fare chiaramente un test in previsione di domenica prossima anche se domenica sarà il doppio come chilometraggio però già questo è importante è un segnale importante che per far capire come stanno un po gli atleti e qui direi che è stata una bella battaglia Davide insomma ecco anche per quanto riguarda i vari concorrenti indipendentemente di delle società che possono essere ma insomma ecco c'è stata una buona è stata molto combattuta la gara e direi anche per chi l'ha assistito c'è stato un bel coinvolgimento era un bello spettacolo poi effettivamente all'inizio c'era Tartaglini addirittura Annetti che poi vincera la gara era un pochino quasi due retrovie poi avevamo quel Polverelli l'atleta diciamo di Imola che si è presentato qui un allievo al primo anno che però ha dato battaglia a molti diciamo ragazzi più grandi di lui insomma quindi cioè è stato per qualcuno un banco di prova importante insomma ecco è stato un bel banco di prova poi ripeto anche il pubblico molti insomma se erano proprio appassionati il fatto che c'era questi passaggi continui li coinvolgeva quindi li e qui intanto abbiamo visto un terzetto con Lanzi con Verini e no con Tartaglini e Annetti che hanno allungato ecco in questo caso qui intanto Annetti sta allungando poi il Mubarchi che sta seguendo poi Verini abbiamo visto poi Martinelli Brezzi e poi Caraparo poi diciamo ecco anche Satigliano che era partito forte anche noi dopo però ho visto che dopo ha un pochino calato ecco qui poteva esserci buona la presenza di ancora dell'infortunato Filai il nostro Filai esatto che sicuramente poteva dire la sua qui intanto vediamo la spinta diciamo proprio energica di Alessandro Annetti poi Simone Lanzi e Tartaglini hanno tirato forte hanno tirato eh sono stati bravi sì devo dire e poi c'è stato dalla seconda posizione in poi dopo si sono ricompattati c'è stato nell'ultimo giro dei cambiamenti forse non previsti eh sì sì c'è stata una bella lotta se la sono e direi che tanto di di cappella anche per G.P. Namilcare che direttamente si è messo in gioco lui un vincitore perché anche cioè fare una campestre alla sua età vuol dire essere veramente coraggiosi e anche generosi perché perché dimostrare che alla alla sua età si può fare una campestre e poi l'ha voluta finire sì anche io ho tentato un pochino di offuscare un po' la mente dicendo ma facciamo un giro in meno no 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 perché dice no no faccio tutti no no io serve come allenamento ma speriamo speriamo veramente io mi auguro di arrivare alla sua età e ancora fare le gare perché insomma ragazzi 80 anni manca un anno ma insomma 80 anni e ancora nella breccia insomma tanto di cappello è che voglio dire sì no no io veramente e qui vediamo però anche molti amatori che si sono diciamo forse avventurati su queste nuove esperienze che fino a qualche anno fa no io le campestre non le facevo no invece ecco e forse farne qualcuna in più può darsi che possa essere utile anche su questo ma sì infatti anche l'idea non so di tenerli separati non so se sia giusto o sbagliato cioè nel senso che io credo che anche insomma ripeto se anche uno viene doppiato e pazienza c'è vuol dire e qui intanto vediamo proprio l'arrivo di Alessandro Annetti che veramente sta riprendendo dopo diciamo i primi giorni dell'anno un pochino sotto tono sta arrivando pronto per i campionati di società quindi ci auguriamo che domenica prossima insieme alla squadra possa dire la sua e qui la volata molto bella di El Mubarchi che riesce proprio nel finale superare sia Lanzi che Martinelli quindi è stata veramente una bellissima gara quindi e poi al quinto posto Ebrezzi intramontavano anche Pietro Verini che non è tiguanissimo però riesce ad andare ancora molto bene anche lui ha fatto veramente un bel lavoro e poi Tartaglini che chiaramente ha pagato ha pagato la partenza forte però giustamente ci deve battere come si dice noi solitamente il muso poi Capraro poi dopo vediamo Falaschi e poi vediamo l'atleta di Siena di scusate di Imola che è andato molto molto bene Polvereni Lorenzo e poi ecco poi Satigliano che è arrivato adesso e qui siamo nelle prime azioni fra l'altro la presenza anche dell'assessore allo sport che ha apprezzato moltissimo sia la location ma anche il tipo di organizzazione Sì no no è stata infatti la ringrazio per la sua presenza è stata molto disponibile ha fatto tutte le premiazioni e anche lei è rimasta entusiasta del posto dell'iniziativa quindi speriamo che che sia di buon auspicio che che ci sostenga nel raggiungere insomma quello che si diceva all'inizio Siamo un po' a conclusione Davide quindi una considerazione finale su questa manifestazione Ma ti dico te lo sai io è stato un impegno enorme e la paura tanta sia per il tempo sia per non essere in grado di organizzarla al meglio poi credo che è andato tutto bene tutti sono rimasti abbastanza soddisfatti si può fare meglio lo cercheremo di fare meglio il prossimo anno ma insomma sono soddisfatto Io credo che... insomma da aver... sì sì di di di... E questo è il podio ecco se no siamo un po' a conclusione quindi ringraziamo chiaramente la Freerun che ha organizzato questa manifestazione l'appuntamento è alla prossima settimana con i campionati di società quindi guardiamo benissimo